Amici del software libero open source, benvenuti in questa 51esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando di Sogus. Questa settimana è stata rilasciata l'edizione 4.1 di Sogus, nome in codice Fortitude. Questa nuova regrese viene a 9 mesi dal precedente rilascio ed offre un'esperienza desktop nuova di zecca, stack hardware e software aggiornato, nonché una nuova edizione basata su KDE Plasma. Comuna a tutte quante le edizioni è la presenza dell'ultima reglese di Firefox, Viber Office e Thunderbird. L'edizione con Bagi, Gnome e Mate vengono tutte e tre fornite con Ritmonbox come player per la riproduzione audio, Bagi e Gnome utilizzano poi Gnome MPV per la riproduzione video. Per quanto riguarda KDE abbiamo Elisa come riproduttore audio e SM Player per la riproduzione video. Comune a tutte le edizioni è la presenza del kernel Linux 5.4.12 che consente di supportare una vasta gamma di hardware di nuova generazione sia AMD che Intel che Nvidia e Mesa che è aggiornata alla 19.3.2. Per quanto riguarda l'edizione principale, quella fornita con Bagi Desktop, troviamo la presenza di Bagi 10.5.1 che è l'ultima minor release rilasciata lo scorso ottobre. Principalmente questa minor release si concentra su correzioni e miglioramenti della qualità dell'esperienza utente. L'edizione con Gnome viene rilasciata con Gnome 3.34.3 con una serie di estensioni che vanno a personalizzare l'esperienza utente. Troviamo Dash to Dock, Drive Menu, Impazienze che serve per rendere le animazioni più veloci, è una delle estensioni che per me non può mai mancare su Gnome Top Icons che consente di avere supporto nelle icone e nella trial di sistema, perché Gnome ha tolto il supporto nella trial e non lo so perché, è una stronzata secondo me. L'edizione con Mate offre Mate 1.22 che offre numerose correzioni di bug e miglioramenti, Bricks Menu 0.6.1 è una nuova utility chiamata Mate User Manager che serve per la gestione degli utenti e dei gruppi che va a sostituire la funzionalità predefinita presente in Mate Control Center. Dicevamo poi di questa nuova edizione con KDE Plasma. Questa nuova edizione è basata su Plasma Desktop 5.17.5, KDE Framework 5.66, KDE Application alla 19.12.1, quindi l'ultimo aggiornamento, e le Qt alla 5.13.2. Ovviamente, anche in questo caso, l'esperienza da desktop è stata personalizzata da Timmy di Solus con alcune modifiche, sia a livello estetico, con la presenza del tema Solus Dark, che è un tema più scuro di Breeze Dark, che lo rende più vicino alle altre edizioni che utilizzano Plata GTK, ma anche a livello delle impostazioni con modifiche sul comportamento di Baloo, il timeout del logout, che è stato portato a 30-10 secondi, creazione di un layout personalizzato per i widget orologio digitale, modifica della posizione di alcuni widget, modifica nel comportamento di K-Win, che è impostato di default le finestre centrate, e altre modifiche qua e là, come per esempio il click singolo abilitato per impostazione predefinita, quindi per rendere più piacevole il tutto e più simile alle altre edizioni. È un vero peccato che questa release, cioè che questa distro non abbia abbastanza successo, ma purtroppo si sa, la frammentazione porta a questo, ci sono pochi utenti, ci sono pochi sviluppatori, quindi si finisce con portare avanti i progetti, progetti seppur validi, perché offre un sistema dell'installazione dei pacchetti, delle cose particolari, spettagate di distro, però appunto la mancanza di forza, di forza lavoro porta a rendere queste distro per cantinare, diciamo così. Passiamo adesso al rilascio di LibreOffice 6.4, la nuova meglio release del ramo Fresh, questa nuova versione è caratterizzata da prestazioni migliorate, in particolar modo delle operazioni di apertura e salvataggio dei fogli di calco, delle presentazioni e una migliorata compatibilità con i file DOCX, XLSX e PPTX. All'interno del blog trovate le note di rilascio con tutte quante le novità di questa release. L'escluso un po' a questo giro è come sempre LibreOffice base, che viene un po' distrattato da parte del team di LibreOffice. Ah, è una cosa carina che c'è da dire, che questa nuova versione in Writer supporta il generatore di QR, se vi può servire, non so a quante persone possa servire una cosa del genere, comunque è stato introdotto. Passiamo adesso a Linux Mint e le novità che vedremo a breve. Come sempre, a fine mese, il team di Linux Mint fa un resoconto su tutte quante le novità che vedremo sulle prossime release e fa anche un resoconto delle donazioni ricevute. Parlando proprio di donazioni, a dicembre il team di Linux Mint ha ricevuto ben 1022 donazioni per un totale di 25352 donazioni. Questo è il massimo storico raccolto fino ad ora. il prossimo anno, questo nuovo anno, questo nuovo 2020, vedremo diverse sfide per il team di Linux Mint perché ci saranno due nuove edizioni su due nuove basi. Perché vedremo il rilascio della nuova edizione principale che sarà basata su Ubuntu 20.04 e della nuova versione basata su Debian che sarà basata su Debian 10. È proprio di Debian, di questa edizione di Linux Mint Debian Edition che ci sono alcune novità interessanti. Linux Mint Debian Edition 4 sarà la nuova versione basata su Debian 10. Conterrà tutti i miglioramenti forniti con Linux Mint 19.3, quindi boot repair, remote di sistema, impostazioni di lingua, miglioramenti dell'HIDPI, celluloid, g-note, drawing, cinnamon 4.4, icone di stato XAP e quant'altro. Alcune delle funzionalità mancanti sono state portate appunto da Linux Mint, quindi si è voluto allineare il tutto. Al installer è stato dato un aspetto migliore, adesso mostra lo stesso slide show che troviamo su Ubiquiti, supporta anche i sottomoduli BTRFS e la criptografia della home. Grandissima novità che è una delle più interessanti appunto di Linux Mint Debian Edition 4 sarà il supporto ai driver NVIDIA direttamente nelle isole di installazione. Con i driver liberi, open source, Noveo, c'erano problemi su alcune schede grafiche che magari non venivano riconosciute e quindi il chip non veniva riconosciuto e ci si trovavamo senza display grafico. Il Linux Mint Debian Edition 4 verrà aggiunto a una nuova voce nel menu di avvio che consente di far partire al volo una live con i driver NVIDIA funzionanti e, una volta fatta partire in questo caso con i driver NVIDIA funzionanti, lanciando l'installazione verranno installati i driver NVIDIA in automatico, quindi sarete produttivi e pronti all'uso fin da subito. Passando invece a Cinnamon ci sono alcune novità che riguardano il comportamento delle impostazioni del display e la gestione multi monitor. La prossima versione di Cinnamon ci permetterà di scegliere la frequenza dei nostri monitor e una funzione che era stata richiesta diverse volte ed era presente già su altri desktop environment, quindi adesso è stata aggiunta anche in Cinnamon. Oltre a questo troviamo l'introduzione del ridimensionamento frazionario. Al momento il ridimensionamento frazionario offre due livelli, il 100% quello normale e il 200% per la modalità HDPI, che è lo stesso per tutti i monitor. L'idea del team di Linux Mint è quella di rendere il ridimensionamento frazionario diverso per ogni monitor che ha la possibilità di impostarlo con valori compresi tra il 100% e il 200%. Questo per risolvere i vari problemi perché per esempio sapete bene che adesso se collegate, se avete un portatile con l'HIDPI attivo e collegate un monitor esterno che non supporta l'HDPI, vi ritrovate con l'avere l'HDPI su tutte e due perché non si può avere l'HDPI da una parte e non l'HDPI dall'altra e viceversa. O li avete su tutte e due o non li avete su nessuno dei due. Il team di Linux Mint sta lavorando a questo e alcune di queste funzionalità sul ridimensionamento frazionario sono arrivate già nella fase alfa di Cinema 4.6 e si sta valutando sulla compatibilità e sui vantaggi e svantaggi sulle varie GPU. Ultima cosa riguardante Linux Mint è che adesso il Mint Box 3 è disponibile con spedizione internazionale quindi fornita da CompuLab se siete in Israele e da Amazon USA. Poi trovate su Marcosmox i link sia della versione Pro che della versione Basic di questo mini PC. Anzi non è un mini PC, è un PC a tutti gli effetti alla fine equipaggiato con Linux Mint. Passiamo adesso a parlare di Thunderbolt che ha finalmente una nuova casa. Il team di sviluppo di questo famoso client di posta elettronica gratuita open source e multi-fiattaforma ha annunciato che il progetto Thunderbolt passerà nelle mani di MZLA Technologies Corporation, una società interamente di proprietà della Mozilla Foundation che però questo scamotaggio gli consentirà agli sviluppatori di poter ricevere diciamo così denaro da poter utilizzare per il miglioramento dei servizi perché potranno ricevere donazioni, potranno avere anche se da parte degli utenti che anche da parte generale diciamo così aziendali e quant'altro e offrirà una maggiore flessibilità e agilità nel poter esplorare una nuova strada di sviluppo e cose che magari non erano possibili nell'ambito della Mozilla Foundation e quindi si spera farà del bene al Thunderbolt e consentirà di farlo evolvere ulteriormente e di dargli una certa autonomia che merita diciamo così perché già aveva una certa autonomia ma era un po' castrata dal fatto di essere sempre sotto l'odore di Mozilla Foundation. Ovviamente non ci sarà nessun cambiamento per quanto riguarda il modello di sviluppo di Thunderbird quindi tutti gli utenti, tutti i sviluppatori che lavoravano a Thunderbird continueranno a rimanerci, il consiglio di Thunderbird continuerà a guidare il progetto quindi tutto rimarrà uguale, cambierà soltanto appunto la possibilità di ricevere donazioni da parte di partenariati, donazioni benefiche e quant'altro che consiglieranno di coprire i costi di nuovi prodotti e servizi che Thunderbird vorrà introdurre nel prossimo futuro Ultima notizia della settimana riguarda il caso Avast e dati venduti Una indagine congiunta svolta da Vice e PC Magazine ha infatti scoperto che JumpShot che era una sussidiare di Avast vendeva e vende a terzi, o meglio non vende più perché adesso la società è stata chiusa, dati degli utenti raccolti attraverso il monitoraggio dei sessi durante la navigazione. Tutto è partito lo scorso ottobre quando Vladimir Palant un ricercatore specializzato in sicurezza informatica si è accorto di alcune nomaglie nelle estensioni di Avast che andavano a raccogliere dati relativi ai siti web visitati insieme a un id utente e inviavano tali informazioni ad Avast A seguito di questa scoperta Google, Mozilla e Opera avevano anche temporaneamente rimosso dai rispettivi storici le estensioni di Avast Vice e PC Magazine hanno deciso poi di approfondire la vicenda e hanno scoperto che JumpShot, una delle società sussidiare di Avast, raccoglieva tutti questi dati e li vendeva a terzi fra i dati raccolti oltre alla normale navigazione web c'erano anche informazioni di ricerca su Google con logia dei video guardati su YouTube, Facebook, Instagram, coordinate GPS su Google Maps e anche le visite effettuate ai siti porn JumpShot poi vendeva tali dati a grandi aziende del calibro di Google, Microsoft, Pepsi quindi ci sono tanti nomi che hanno usufruito di questi dati raccolti in maniera fraudolenta stando poi alle dichiarazioni di Avast tali dati prima di essere venduti erano anonimizzati in modo tale da rimuovere le informazioni in grado di identificare gli utenti in modo univoco come ad esempio l'indizio IP o l'indizio email e quant'altro tuttavia sapete bene che esistono diversi metodi per aggirare l'anonimato dei dati integrandoli con dati forniti da altri fondi e quindi si può identificare gli utenti vedetevi la faccenda dei fingerprint che andate ad approfondire trovate informazioni al riguardo sul sito di Firefox o su Marcosbox perché Firefox adesso integra una protezione anche dal fingerprinting fra i clienti di questa società di questa sussidiare di Avast c'era anche Omnicon Media Group che è un fornitore di marketing che aveva firmato con Jumpshot un particolare contratto per ricevere quello che veniva chiamato il feed quello comprensivo di tutto i dati venduti da Omnicon Media Group comprendevano anche gli ID dispositivo collegati a ciascun click quindi questa società aveva questo accordo con Jumpshot per avere tutte le informazioni quindi non c'era manco bisogno di integrare i dati da altre parti per identificare gli utenti quindi aveva anche la stringa URL di ciascun sito visitato, URL di riferimento, i timestamp fino al millisecondo l'età, i genere sospetti degli utenti e tutte cose che possono essere dedotti in base al sito che la persona visitava interpretata da Vice e PC Magazine, la società all'inizio non ha risposto e successivamente dopo qualche giorno ha fatto un comunicato ufficiale a Andrei Vichek che è il CEO di Avast che ha annunciato con una lettera aperta indirizzata a clienti, partner, dipendenti e investitori la decisione di Avast di interrompere la raccolta dati di Jumpshot e di chiudere con effetto immediato la sussidiaria la decisione è stata presa per pararsi un po' per tutte quante le polemiche scoppiate Andrei Vichek si è scusato con gli utenti per aver ferito i consentimenti per aver minato la fiducia nella società e quant'altro e niente, ha scaricato praticamente quasi tutta la coppa su Jumpshot che ha operato come una società indipendente sin dall'inizio e vabbè, delle solite cose che si dicono in questi casi è assicurato che comunque questa società ha lavorato, ha agito entro i limiti legali anche quelli imposti dal GDPR dell'Unione Europea che è stato rilasciato nel regolamento nel maggio del 2018 vedremo come si evolverà successivamente la faccenda, se ci saranno altri sviluppi se ci saranno anche eventuali class action negli Stati Uniti per quanto riguarda questa vicenda vi terrò aggiornati Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box Ciao ciao Ciao